Lei non pensa che fare fotografie dentro il parco privato di una villa, anche da fuori, sia violazione della privacy? Il problema è capire fin dove arriva la privacy, ok? Nel senso che io ho cominciato a fare fotografie all'aeroporto e vedevo che c'era un movimento strano di persone. Dopodiché voglio documentare da giornalista che cosa succede. Tento di fotografare il presidente, la prima fotografia che feci ero convinto di fotografare il presidente perché aveva fatto pace con Veroni Calario, trovarli tutti e due nel parco, mano nella mano, e fare la fotografia che mi avrebbe magari dato qualche soldino per poter campare un po' di più, ecco, un po' meglio, come si dice. Non ho beccato Veroni Calario il giorno di Pasqua alla Certosa, ho beccato il presidente con cinque ragazzi. Villa Certosa è un parco di 80 etari, quindi è molto difficile da poter nascondere, molto difficile. Salgo su una roccia, io prendo tutta Villa Certosa, tutto il parco di quella parte di Villa Certosa. Quindi possiamo parlare di 300 metri, 400 metri, per un obiettivo del genere è una normalità. Sopra una delle rocci più alte c'è un appartamento dove c'era un movimento particolare di ragazze e la cosa mi aveva molto incuriosito, allora quindi avevo preso un po' di mira. E avevo ragione di prendere la mira. Perché? Perché poi è comparso il premier, è comparso il premier anche in quell'appartamento. Ma lei ha un luogo segreto particolare da cui scattare? Ma me li scoprono alla fine, ci mettono io poi i cecchini. È stato spesso inseguito dal servizio di sicurezza di Villa Scuola? C'è anche una sequenza di immagini che fa vedere Porto Rotondo come la Colombia, peggio della Colombia. Cioè? Uomini armati con fucili di precisione, motociclette che impennano con carabinieri con le mitragliette dietro. No, scusa, guardia del corpo, no, carabinieri. Carabinieri, queste cose non le fanno lì. Ma che cosa si vede in queste fotografie? Stiamo parlando di fotografie che riguardano ragazze, in atteggiamento disinvolto, alcune, intorno alla piscina e poi le ultime sono quelle naturalmente della festa di Capodanno. Tra queste ragazze che lei ha visto al Parco della Certosa a Capodanno e invece nel periodo estivo, si vedono minorenni? La mia sensazione era che erano minorenni, c'erano minorenni. Sia a Capodanno che d'estate? Sì, sì, esatto. Per quanto riguarda gli arrivi all'aeroporto di Olbia, lei ha visto arrivare ragazze che le sembravano minorenni? No, questo no. Per quanto riguarda gli aerei di Stato, no. Poi gli aerei privati non li seguivo più, non era possibile, era un via vai incredibile. In che senso? In che senso? Tipo autostrada del sole arrivavano aerei privati, suoi, arrivava l'aeropresidenziale, partiva uno e tornava un altro, era un caricare, scaricare, caricare, scaricare. Con che tipo di ospiti? Ragazze, ospiti suoi, di ogni genere. Molte ragazze sempre? Sì, sì, sì. Vabbè, quando c'erano le feste c'erano anche cinque voli al giorno che arrivavano di aerei. Lei nelle foto di Capodanno ha riconosciuto Noemi Letizia? Io non ho riconosciuto Noemi in quelle fotografie, non l'ho riconosciuto, però non posso escludere che ci fossi noi, perché comunque, ripeto, le ragazze magari erano tutte imbaccucate, nel senso che avevano la pelliccia, il cappotto sollevato e tutto, quindi viene difficile poter riconoscere la ragazza. C'è qualcuno tra le persone a cui lei ha mostrato le sue foto che ha riconosciuto Noemi Letizia? Sì. Ci può fare il nome? No. Il direttore di Panorama, Belpietro, dice che lei offrì per un milione e mezzo di euro queste foto a Panorama sostanzialmente per farle togliere dal mercato, quindi insomma l'accusa di essere un truffatore, un ricattatore in qualche modo. Cosa risponde? Tutto nasce da un amico, che si chiama Giacomo Amadori, un carissimo amico. Io e Giacomo ci incontriamo tre di… Giornalista di Panorama. Inviato di Panorama. Come poteva pensare di vendere queste foto a Panorama, essendo Panorama il settimanale della Mondadori, ed essendola Mondadori di Berlusconi? Giacomo mi dice una cosa, ci potrebbero servire, loro lo volevano visionare, ci potrebbero servire per dimostrare che la festa di Capodanno era semplicemente una festa di Capodanno, senza che ci fosse tutta quella malizia che la gente sta dicendo. Il pacchetto di fotografie ne avrebbero pubblicato una parte e gli altri ne avrebbero messo in cassaforte. Punto, questo era il senso. Mando le fotografie, esattamente 41 fotografie, dopo pochi secondi, ma pochi più secondi, mi chiamo a una certa miti Simonetto, che non so chi sia. Si presenta come segretaria di Berlusconi. E che è quella che cura l'immagine del Presidente del Consiglio, da tanti anni. Sì, esatto. E gli ho detto che assolutamente che Collino, anzi mi dice, ma sono venuto a conoscenza che lei ha delle immagini che ha messo sul mercato. E io gli ho fatto, ma io Collino non posso parlare. E fa, ma no, non si preoccupi, lei parla con me. No, ma io sto parlando con Mondadori. E' lo stesso, parlare con Mondadori come parlare con noi. Gli ho fatto, no, non è questo il problema. Ma il problema è comunque che io devo parlare con Giacomo Amadori di Mondadori, di Panorava. Dopo un'ora e mezza mi richiama, mi chiama Giacomo e mi dice, guarda la signora è qui accanto a me. Ho detto, ok, ti sto mandando le foto, 41 foto, gliele mando. Gliele mando, vengono visionate, dopo un po' mi richiama la Simonetto e mi dice, senta, ma quanto vuole per queste fotografie? Ho fatto, no, non ci siamo capiti, io Collino non posso parlare. Devo parlare con Giacomo, anzi facciamo così, mando un'email a Giacomo. A quel punto non ho più saputo niente, l'indomani mi chiama Giacomo dicendo che è successo il finimondo, perché Belpietro aveva chiamato Ghedini, Ghedini mi sta denunciando, ho fatto, e perché cosa? Dice, ah, perché sai, il garante è questo, questo altro, ok, va bene, andiamo, bloccate le fotografie, non c'è problema. Sempre Belpietro, direttore di Panorama, dice, è evidente che Zappado voleva entrare in contatto direttamente con Berlusconi, con quella sua richiesta, voleva fare il furbo. Io fare il furbo? Beh, io penso che il furbo l'abbia fatto lui prendendo le fotografie e portandole direttamente da Ghedini. Esistono, tra le foto che lei ha consegnato ai carabinieri, foto compromettenti per il Presidente del Consiglio? Diciamo che possono essere imbarazzanti, in alcuni casi molto imbarazzanti, questo sì. Leggo dal Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, e poi ci sono le immagini delle ragazze immortalate sotto la doccia. Una sequenza ne mostra due, bellissime, entrambe in topless, che si rinfrescano sotto il getto dell'acqua. I corpi sono così vicini che sembra quasi si sovrappongano. Ci sono foto di questo genere? Lei ha scattato foto di questo genere? Qui sembrano due ragazze che amoreggiano tra di loro, insomma, per come la leggo io. Questo intendo per i imbarazzanti. Per quanto riguarda le fotografie all'aeroporto di Olbia, lei ha fotografato molte situazioni in cui privati cittadini usufruivano di passaggi con l'aereo di Stato? Sì. Ne ha fatti altri? Sì. Che riguardano anche altri personaggi che non dovevano stare su quell'aereo? Sicuramente non dovevano starci. Ci può indicare qualcuno di questi?